E' tempo di live e sport stories E' tempo di caldo e di mare con questa assonanza visto che è impazzata la primavera su tutta l'Italia anche se questo fine settimana qualche pioggia sta scendendo ma per gli amanti del kite, del surf insomma a qualsiasi condizione meteorologica a qualsiasi temperatura si va in acqua e ne parliamo insieme ad Andrea Nesi che è responsabile nazionale del CS Ciao Andrea, ben ritrovato Ciao a voi, scusatemi per questa improvvisata in strada ma purtroppo sono stato colto dal traffico non sono arrivato in tempo in direzione Però guarda, va bene così con uno sfondo anche diciamo bucolico insomma di un albero sappiamo gli impedimenti anche della capitale però visto che parliamo anche di acqua e di atleti poi parleremo ecco in questa seconda parte diamo la buonasera e benvenuto a Carlo Pezzanera che è responsabile del nuoto Ciao Carlo, benvenuto Buonasera a tutti voi, ciao E allora insomma parliamo di nuoto innanzitutto ti chiedo Carlo come si sono svolti gli ultimi eventi di questa grande disciplina che sappiamo abbraccia tante persone noi vediamo sempre le Olimpiadi, i mondiali i campioni italiani ma c'è una grandissima quantità di persone di appassionati che magari non fanno attività di primissima fascia ma che si divertono ogni settimana si allenano 3-4 volte a settimana alla piscina vicino casa e poi dopo vanno a disputare delle gare l'ICS abbraccia tutta questa questa moltitudine di persone è così, cosa avete organizzato ultimamente? Allora, ultimamente siamo stati a Riccioni il 23, 24 e 25 con i campionati nazionali AICS ci sono stati circa 860-870 partecipanti è stata una bellissima manifestazione tieni presente con grande soddisfazione da parte dei genitori che per la prima volta dopo due anni e forse anche più sono potuti rientrare in piscina per seguire i propri figli i propri atleti per cui è stata una manifestazione veramente molto molto bella molto importante con degli ottimi risultati e come ti accennavo prima con circa 860-870 partecipanti è stata una manifestazione che ci ha dato delle grosse soddisfazioni diciamo sotto questo aspetto diciamo il mondo del nuoto anche in questi diciamo due anni e qualche cosa di più di difficoltà diciamo l'attività a livello proprio agonistico si è potuta comunque consumare lo stesso gli atleti ci sono potuti allenare con qualche difficoltà ovviamente tenendo presente tutte le normative che il Covid-19 ha imposto le distanze i metri quadri non ti sto a elencare e non sto a elencare agli altri quello che molto probabilmente conoscerete però ecco diciamo che questo nonostante tutto ci ha reso felici e partecipi di una situazione che sperando viva Dio si possa essere o almeno ci stia portando al termine e poi insomma sul pubblico voglio tornare passo da Andrea che invece pubblico diciamo sulla spiaggia ce n'è nel senso che prende magari il sole e va a riposarsi qualche ora ma non si riposano tutti gli atleti che praticano degli sport che hanno a che fare con la vela con l'acqua qua stiamo parlando di windfoil stiamo parlando di kite di surf eccetera però questa parte Andrea noi ci fermiamo più che altro sul kite surf perché poi nel corso anche della stagione visto che noi arriviamo anche a fine luglio parleremo anche delle altre diciamo discipline che sono molto importanti e stanno prendendo soprattutto tanto piede nel nostro nel nostro paese ecco oggi è un'attività in fermento questa del kite si allarga sempre di più sono tanti appassionati che proprio lo praticano non dico quotidianamente ma come magari due o tre volte a settimana escono certo devi avere il mare che chi non ha il mare è un po' difficile come siamo messi a punto di vista degli eventi allora diciamo che delle tre discipline che hai citato ovviamente noi abbiamo selezionato questa per oggi il kite surf richiede una nota particolare nel senso che a differenza degli altri due il wind surf e il wing foil con il kite surf come notate il il praticante si deve agganciare ad una vela ed è proprio agganciato e vincolato e questo diciamo lo predispone diciamo lo espone a dei pericoli supplementari soprattutto nella fase iniziale perché è uno sport che tutto sommato nella fase iniziale ha un processo di apprendimento molto veloce quindi si può arrivare molto velocemente a divertirsi però questo è un po' un'arma a doppio taglio e quindi sia gli eventi che i corsi di formazione che durano una settimana a differenza dei due tre giorni degli altri sport da tavola parliamo di corsi di formazione per istruttori durano appunto una settimana perché c'è bisogno di trasmettere loro tutto quel senso di responsabilità che ci vuole per poi mandare in acqua un qualcuno con questa attrezzatura e quindi ripeto gli sport ce l'abbiamo in un momento l'abbiamo perso queste sono tutte le immagini che stiamo che stiamo vedendo per quanto riguarda qui è più windfoil evoluzioni non ha che vedere diciamo direttamente però sono tutti sport d'acqua e da tavola hanno un comune denominatore intorno che è legato all'equilibrio ovviamente la vela richiede che tu conosca anche il vento quindi noi puntiamo moltissimo sul tema della sicurezza che in questa particolare disciplina assume una veramente una caratteristica una importanza decisiva e quindi tutte le nostre attività anche le gare sono legate al controllo non è una gara di velocità non è una gara di salto è una gara di controllo quindi un controllo tra le poe per verificare come quella persona sia in grado di gestire la sua ala in piena sicurezza in pieno controllo questo è un po' il nostro stile il kite surf si pratica un po' dappertutto in tutto il mondo noi abbiamo scelto di avere per il momento tre centri di formazione di eccellenza un solo capo formatore si chiama Antonio Egris che ha 25 anni di esperienza insomma molto conosciuto è stato anche campione italiano di windsurf è un multitasking su questi sport ma qui abbiamo ecco lo vediamo proprio in questo momento mentre utilizza un kite foil quindi con una pinna che lo porta diciamo decisamente fuori dall'acqua e questo consente con un minore attrito di volare anche con una quantità di vento un'intensità di vento molto ridotta questo è un po' il tema sicurezza 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 prima del divertimento questo è importante torno un attimo da Carlo quindi sul tema del nuoto abbiamo visto tante persone Carlo sulle tribune è veramente bello tornare a questa normalità tutti ovviamente avevano la mascherina visto che comunque tuttora le norme vigenti insomma ci dicono che dobbiamo indossare la mascherina e lo facciamo anche noi qui al lavoro siamo strettamente ligi al nostro dovere anche perché non bisogna assolutamente abbassare la guardia ma quanto è importante tu hai citato prima i genitori ma anche i ragazzi poter andare in un impianto bellissimo come quello di Riccione che ospita tanti eventi e poter gareggiare poter avere uno sfogo e sociale e sportivo per queste famiglie per questi ragazzi ma soprattutto anche per lo stesso ente di promozione tornare a disputare degli eventi importanti noi seguiremo tutto questo mese di maggio e giugno anche degli eventi su scala nazionale e dobbiamo dire che per fortuna stiamo uscendo ecco cosa hai potuto notare l'entusiasmo la voglia cioè quegli aspetti non agonistici ma gli aspetti praticamente di chi fa uno sport perché ha il gusto di volerlo fare non perché deve vincere piace a tutti però c'è anche altro no diciamo che la gioia di poter ritornare a gareggiare soprattutto con il pubblico evidentemente è una cosa che non ha paragoni una gara senza pubblico e una gara con il pubblico una nota a parte che prima non ho menzionato quest'anno la nostra associazione l'AICS grazie al nostro presidente Bruno Molea ha voluto che aprissimo diciamo la partecipazione anche allo sport disabile al nuoto paralimpico non abbiamo avuto una grande attenzione perché siamo stati noi a chiedere di non perché dobbiamo capire le tempistiche noi siamo abituati con il nuoto agonistico il nuoto paralimpico ha delle tempistiche e delle situazioni molto particolari che dobbiamo come si dice apprendere piano piano questa era un nuoto a margine adesso ritorno a quello che è il pubblico il pubblico è stato correttissimo come dicevi a parte qualche eccezione diciamo anche un po' particolare tipo le signore che qualche signora che lo portava sul mento dove io scherzando gli dicevo ma lei respira con il mento signora pensavo respirasse con la bocca e il naso mi scusi mi scusi c'è stato a parte da parte AICS c'è stata una predisposizione al controllo diciamo capillare sotto tutto ogni punto di vista i genitori sono stati entusiasti perché ripeto per gli atleti era un ritornare a fare le gare diciamo con uno spirito diverso con la gioia sapendo che magari sulle tribune c'era il papà la mamma in certi casi anche il nonno e la nonna con grande soddisfazione immagina ai genitori noi per esempio io come responsabile provinciale anche della federazione nuoto domenica ho delle gare qui a Terni e ancora il pubblico non può entrare perché negli impianti dove non ci sono le tribune espressamente per il pubblico ancora la federazione non fa entrare senti Carlo cosa vuol dire per questi ragazzi tornare magari vincere e qualificarsi magari avere un titolo nazionale ICS cioè cosa le categorie insomma dire uno due hanno vinto non è carino visto che comunque ci sono tante categorie ci sono tante specialità quindi insomma sono stati tanti i vincitori quindi non dobbiamo parlare di uno in particolare abbiamo fatto otto ma sappiamo come da anche da questi eventi in anni passati gli eventi ICS siano nati anche i campioni veramente che poi sono andati a disputare alti livelli mondiali olimpiadi eccetera sì 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 è vero all'interno delle società affiliate all'ICS negli anni passati ci sono stati dei grossi campioni che ben conosciamo tutti quanti diciamo che la gioia di questi ragazzi anche nel momento diciamo della vittoria ha rappresentato per loro un momento di grande soddisfazione e i titoli che ha segnati sono stati tanti diciamo che c'è stata anche una sana competizione da parte e degli atleti e delle società nel complesso perché l'atleta punta alla vittoria o al piazzamento singolarmente poi dopo ci sono le società che ovviamente cercano di primeggiare in quello che riguarda il trofeo delle regioni riservato agli esordienti A e B e in quello che è il trofeo azzurro campionato nazionale AICS ha primeggiato lo dico anche con orgoglio la società di nuoto stadium di Terni che diciamo ha battuto grosse società avendo avuto anche dalla fine gennaio la non disponibilità del proprio impianto delle piscine dello stadio perché ci sono stati dei problemi dove l'impianto è stato chiuso per cui i ragazzi si sono dovuti un po' arrangiare nelle varie piscine in maniera molto diciamo con qualche difficoltà Certo ma guarda io ti dico una cosa Carlo per quanto riguarda la parte che hai citato importante della prevenzione ma soprattutto dell'osservazione dei protocolli c'è Francesca Iaria che abbiamo sentito anche a Radio Cusano Campus la scorsa settimana che veramente ha fatto un lavoro egregio come tutto il CS c'è da lotare veramente questa persona che ma anche tutto l'apparato l'organizzazione ecco a noi piace fare lo sport come si suol dire in sicurezza non è una frase fatta torno però un attimo voglio aggiungere qualcosa Carlo no 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 ho detto assolutamente sì ecco ma lo so che sei d'accordo perché il lavoro che sta facendo è sotto gli occhi di tutti e di grande livello passo però di nuovo ad Andrea che ha parlato appunto di sicurezza Andrea i prossimi eventi perché è inevitabile noi parliamo di mare di sole di vela è vero che si esce tanto d'inverno però inevitabilmente ne cominciamo a parlare da adesso fino a settembre ecco che c'è in programma certo certo allora dobbiamo dire che c'è una questione molto importante da tenere presente cioè tutti gli sport che necessitano di vento sono da considerare per la stragrande maggioranza ha chiamata ovvero non c'è mai la certezza che si svolgano nella data che è stata preventivata questo perché per praticare questi sport ci vuole una intensità minima di vento altrimenti nessuno riesce poi a praticarlo e quindi diventa una cosa sterile in spiaggia e quindi noi sappiamo di certo che faremo un evento questo fine settimana il 7 e l'8 di maggio a Tarquinia presso il Pierra School con la collaborazione del comune di Tarquinia che ci assisterà parteciperà e ovviamente come pensai noi non facciamo sport senza parlare di ambiente ci sarà in contemporanea anche una rifiutola tutte cose gestite da ragazzi aspetta Andrea perché poi noi abbiamo parlato da questo è un evento che a me piace tantissimo lo sai su questo discorso voglio puntare l'attenzione fate un qualcosa di straordinario la rifiutola è praticamente una gara possiamo dire è un evento non lo so che finisci la meglio tu dove si raccolgono rifiuti vai Andrea però è giusto sottolinearlo perché a me piace tantissimo questo connubio sport e ambiente io ti ringrazio tanto per averlo sottolineato perché è un po' la nostra cifra anche nei nostri hashtag cioè sport e ambiente ambiente sport siamo sempre lì non si può fare a meno dell'ambiente e soprattutto chi e io l'ho sempre detto anche in tempi non sospetti cioè chi trae il proprio piacere il proprio divertimento dal vento dall'acqua dal mare dalla sabbia come potrebbe non restituire qualcosa in cambio facendosi carico almeno di un pezzettino di responsabilità e devo dire però che tra coloro che praticano questi sport questa sensibilità c'è già bella forte bella solida perché a chi è che piace un mare sporco una spiaggia sporca non è pensabile una cosa del genere soprattutto da chi appunto ci si immerge per fare il proprio sport per divertirsi ora tornando un attimo agli eventi ne abbiamo poi un secondo importante che va dal 2 al 5 di giugno a Culuccia Culuccia è una località della Sardegna vicino Palau ovviamente sui nostri social trovate tutte le informazioni avremo due eventi a Talamone di cui però non posso darvi la data esatta perché sono a chiamata come vi dicevo perché saranno delle gare per cui c'è bisogno di vento piuttosto intenso e la Baia di Talamone è un posto molto bello anche da visitare si terranno nel mese di luglio perché quell'area è battuta da un certo tipo di eventi in particolare in quel mese lì anche a giugno ma a giugno non ce la facciamo e poi a settembre ripartiamo con i corsi per poi fare l'ultimo evento in acqua che si fa sempre in Sardegna a Culuccia che è un po' quello di chiusura della stagione per quello che riguarda gli eventi organizzati che si tiene da tanti anni nel ponte dei morti e con centinaia di atleti che nessuno si immaginerebbe perché la Sardegna è deserta a parte questi personaggi ma infatti guarda Andrea io ho sottolineato in apertura c'è tanta gente che pratica questi sport cioè nel senso ci meravigliamo a volte quando d'estate vediamo tante vele che vengono issate quindi mamma mia quanti sono ma anche durante l'inverno cioè ci si allena continuamente ed è sono da centinaia come l'hai detto giustamente tu poi dopo magari ce ne dimentichiamo o meglio non ci facciamo caso ma è importante dare continuità a loro con un campionato invernale estivo abbiamo parlato nella parte anche di beach volley come non è diventato o meglio è diventato uno sport tutto l'anno e non so più estivo e penso che anche il windsurf insomma questi sport con la vela si possono praticare tutto l'anno certo bisogna avere un po' di tempo libero questo è da dire soprattutto stare sempre con la bussola lì o comunque attaccati oggi a internet a vedere come sono le previsioni perché come hai detto tu la chiamata cioè quando c'è il vento si esce punto è così questo è qua io ti dico aggiungo solo una cosa che è molto importante da sottolinearsi il covid ha dato una spinta straordinaria verso questi sport perché il covid ha portato le persone a conoscere di più l'aria aperta gli spazi aperti perché molti prima veramente sembra una banalità ma non li conoscevano e quindi c'è un un momento che secondo me durerà nel tempo perché poi chi non l'aveva mai fatto scende in anqua anche banalmente con una tavola da surf o da sup o quello che sia con il mezzo che preferisce si accorge che poi in fondo in fondo non è così difficile oggi ci sono delle mute che si possono comprare veramente a prezzi abbordabili per chiunque che consentono di uscire anche in pieno inverno e vi assicuro che stiamo avendo una crescita notevole e questo è importante ma guarda che ti dico c'è anche una mia collega con un nomino per privacy che si sfoca esce quando può ovviamente con insomma le esigenze lavorative e si diverte così e mi racconta che è una bella trovata sicuramente Andrea Carlo l'ultima perché so che ha un impegno quindi l'ultima faccio velocemente Carlo in un minuto poi i prossimi appuntamenti dove vi possiamo trovare come vi possiamo seguire la nostra programmazione ha subito uno stop come accennavo prima per la chiusura dell'impianto natatorio al momento diciamo a livello natatorio siamo fermi nel senso che non possiamo organizzare altre manifestazioni se mi consenti volevo fare i complimenti ad Andrea perché so attraverso lo seguo per quello che fa ma attraverso anche Diego Persichetti so del grande lavoro che sta facendo e fai un bel lavoro veramente non perché sei presente Andrea ma devo dire che stai facendo un lavoro incommiabile grazie grazie a Carlo Perzanera io mi unisco perché Andrea ripeto noi siamo conosciuti in prima intervista Andrea mi sembra che la seconda o la terza che fai qui a Sporting Club sei quello più presente ma lo sarai anche in futuro perché fai tante attività e ripeto non voglio sottolinearla ancora una volta educare i ragazzi a non gettare i rifiuti a terra o anche dare quel senso civico di raccogliere anche quello che è che viene insomma fatto cadere o comunque viene gettato perché vediamo tante volte andando all'estero ah che belle le strade pulite che belli i parchi puliti poi torniamo e un po' ci scoraggiamo questo lo dico invece dare alle nuove generazioni perché voi fate attività anche con i bambini questo è importante quindi legare lo sport all'ambiente soprattutto l'educazione ambientale che è importante educazione civica ripeto mi provi a sottolinearlo perché è un tema che sta particolarmente a cuore ne abbiamo parlato qui a Sporting Club come anche in altre in altre trasmissioni quindi Andrea insomma sei il benvenuto ti ospiteremo anche a breve e grazie anche al presidente del comitato di Terni per le belle parole e anche io ho sentito parlare bene di lui e sicuramente combineremo qualcosa insieme a breve con Persichetti magari ci vediamo e vi venga a trovare mi piace quest'unione che insomma uno a Terni l'altro a Roma insomma vi attraverse vi siete incontriati ne abbiamo parlato proprio questi giorni con Diego bene grazie a Carlo Pezzanera responsabile del nuoto grazie anche Andrea Anesi responsabile del Queen Surf e Winfoil insomma in atto anche la prossima edizione di una rifiutron tienimi aggiornato Andrea perché quando vuoi ecco insomma continuiamo a parlare grazie 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 allora buonasera a tutti siamo arrivati al termine di questa puntata di Sporti Club che torna il prossimo sabato io ringrazio tutto il comparto tecnico per l'assistenza da parte mia Gianluca Scalata è tutto ciao grazie a tutti